Accedere ai fondi del PNRR è assolutamente cruciale per introdurre innovazioni tecnologiche nella sanità italiana. La presentazione dei progetti finalizzati all'ottenimento di questi fondi tuttavia prevede procedure complesse e di non facile interpretazione. Per superare questo ostacolo è nato il progetto PNRR Imid Academy realizzato da FB associati e supportato da Pfizer presentato oggi a Roma. Questo progetto ha previsto la definizione di una metodologia di lavoro condivisa proprio per la presentazione di progetti candidabili ai fondi del PNRR. Noi ne parliamo con Salvo Leone. Salvo, per le persone con malattie infiammatorie croniche intestinali quali sono le richieste più importanti in termini di assistenza e presa in carico? Nel 2016 Amici conduce un'indagine assieme all'Engagement Hub dell'Università Cattolica del Sacro Core chiedendo ai malati cosa fosse importante per loro nel percorso di cura nella gestione ospedaliera ed è venuto fuori i pilastri della qualità di cura secondo i pazienti. I pazienti chiedono una buona accessibilità del centro, una personalizzazione delle terapie ma soprattutto chiedono essere considerate persone e non pazienti. Questo significa che nella gestione di queste patologie non si deve considerare soltanto quando il malato arriva in ospedale ma vedere, se mi posso permettere fuori dal colon e considerare che qualsiasi nostra scelta sia terapeutica che di gestione della malattia vanno ad impattare nella vita di una persona che se fa parte di un nucleo familiare significa impattare nella vita di 3-4 persone quanto sono le persone che fanno parte di quella famiglia. Quali sono le innovazioni tecnologiche che potrebbero aiutare a raggiungere questi obiettivi? Siamo circondati alla tecnologia però se devo citare qualche esempio mi piace pensare sicuramente alla telemedicina, alla teleassistenza che permetterebbe al paziente di essere seguito da remoto quindi avvicinando l'ospedale al domicilio del malato. Penso a delle piattaforme che ci permettono di raccogliere dati dei pazienti che possono essere analizzati in forma aggregata con l'intelligenza artificiale che permetterebbe probabilmente di anticipare fenomeni patologici o addirittura trovare delle cure definitive. Andiamo verso una direzione in cui la medicina attualmente si occupa di quello che è successo prima, quando un paziente va a visita dal medico, il medico si occupa di capire quasi il progresso. Con la tecnologia probabilmente andiamo verso un percorso di precura, quindi anticipare i fenomeni e laddove un paziente non dovesse essere in grado di prevenire la malattia sarà sicuramente informato per comprendere meglio come comportarsi. Volevo infine chiederti un commento sulla PNRR Imed Academy e sul lavoro che è stato fatto appunto dall'Academy. Quanto potrà essere utile per la messa a punto di progetti finanziabili dal PNRR e appunto per l'ottenimento dei relativi fondi. La PNRR Imed Academy dal mio punto di vista è un esempio virtuoso al quale hanno contribuito sia la comunità scientifica ma soprattutto la comunità dei pazienti che alla fine saranno gli utilizzatori finali di questi fondi con dei progetti che considerano il loro punto di vista, quindi si parla di co-creazione, si parla di pazienti non considerati utenti ma considerati sviluppatori delle tecnologie che potranno essere utilizzate ma soprattutto stiamo parlando di un qualcosa che può migliorare il sistema sanitario nazionale e renderlo sostenibile, quindi la sostenibilità di un sistema si ottiene non soltanto attraverso i tagli degli sprechi ma soprattutto cercando di accettare delle sfide e di renderle in realtà.